Buongiorno a tutti, oggi parleremo ancora una volta dell'impianto fotovoltaico della Zucchetti, il modello azzurro, la serie azzurro più che modello. Oggi 4,66 di produzione, 4 kilowatt stanno andando alla rete, quindi la stragrande maggioranza dell'energia che viene prodotta istantaneamente sta andando direttamente alla rete. Questo ovviamente perché i carichi di casa sono molto bassi e le batterie sono cariche. Vorrei affrontare un discorso che penso possa interessare a molte persone, sia installatori sia proprietari di questi impianti. Nei commenti, nelle domande, ho visto che spesso e volentieri ci sono molti dubbi su queste uscite qua. Quindi abbiamo l'uscita AC Grid e l'uscita AC Load. Concentriamoci un attimo su questi due particolari. Vi ripeto che la C Grid è un'uscita che deve essere collegata alla rete elettrica nazionale. Nel senso che questa uscita qua è l'unica abilitata e legalmente autorizzata, diciamo così, per essere collegata al vostro impianto di casa che poi automaticamente andrà a parallelarsi alla linea elettrica nazionale. Se per qualsiasi motivo l'Enel, una ditta esterna o chiunque altro dovesse fare dei lavori sulla linea elettrica esterna alla vostra proprietà, quindi non so, lungo la via dove avete l'abitazione, e per fare questi lavori ci fosse necessità di staccare l'alimentazione elettrica dalla cabina più vicina o comunque dalla cabina dalla quale voi prelevate l'energia, questi tecnici non devono avere un'energia che gli arriva non più dalla cabina perché magari l'hanno proprio aperto l'interruttore, non li deve arrivare però neanche dal vostro fotovoltaico, quindi neanche dal vostro impianto fotovoltaico, per cui la legge prevede che in caso di assenza di corrente da parte dell'Enel, l'impianto fotovoltaico debba letteralmente spegnersi. La famosa scheda SPI, la cosiddetta SPI, l'interfaccia che ha anche quel compito lì, appena, non appena legge l'assenza di tensione dalla parte della rete elettrica nazionale deve immediatamente scollegare a un tempo di intervento massimo che è di pochi millisecondi, quindi in pochissimi millisecondi il vostro inverter deve staccarsi ed è quello che fa, perché se chiunque di noi andasse adesso a spegnere questo interruttore qua, questo interruttore qua non darebbe più tensione all'inverter, nel senso che l'inverter non leggerebbe più la tensione della rete elettrica nazionale. Se abbassassi questo interruttore qua, questo, ma anche questo, il mio bel impianto fotovoltaico andrà in allarme e adesso ve lo faccio vedere. Allora guardate facciamo così, gli spengo tutte e due e rivado sul monitor. Vedete l'impianto si è completamente arrestato, non c'è più produzione fotovoltaica, non c'è più emissione in rete, non c'è più nulla, non c'è più neanche emissione verso casa e l'allarme si è acceso. Cosa ci sta dicendo questa situazione? Ci sta dicendo semplicemente che è mancata l'energia elettrica da parte dell'Enel e quindi anche il nostro bellissimo impianto fotovoltaico è andato in protezione o meglio sta addempiendo alle regole della C021 che sono quelle che vi dicevo prima che non deve, diciamo, immettere l'energia in rete per un fatto di sicurezza. Adesso io vi faccio vedere, riaccendo gli interruttori che andavano a sezionare sia il contattore di produzione che è l'inverter e l'inverter deve ripartire, anzi ripartirà, ci metterà qualche secondo, eccolo qua, come vedete è ripartito. Vedete attesa 5 secondi, 4 secondi e poi riparte. Vedete la produzione adesso del pannello è ancora a zero perché il dispositivo sta facendo ancora dei controlli, delle verifiche, controllo di rete, controlla le batterie, controlla insomma i sensori che servono proprio a quello. Piano piano la tensione dei pannelli inizia a salire. L'energia che stava precedentemente prelevando dai pannelli in questo momento la sta prelevando dalla rete, ma vedete man mano che la produzione fotovoltaica aumenta, diminuisce, ecco qua, anzi a zera, diciamo così, la ricezione dell'energia dalla rete elettrica. In questo momento è tornato esattamente come era prima, a parte la produzione del fotovoltaico che adesso tenderà a salire fino alla massima potenza. Quindi adesso, se avessimo il tempo di aspettare, vedreste che quello arriva tranquillamente a 4 kilowatt e mezzo, 4 kilowatt e 6. Allora vi ho fatto vedere, diciamo, cosa in tempo reale, cosa succede? Ho simulato un'assenza di tensione da parte dell'Enel o dell'ente che ci fornisce l'energia elettrica. L'ho simulata e quindi l'inverter ha rispettato i parametri di legge che era quello appunto di bloccare la sua emissione di energia qualora si fosse, diciamo, avverata quella quell'ipotesi. Chiaramente dobbiamo sempre attendere il cellulare che metta a fuoco, ecco qua. Va bene, nel frattempo che attendiamo che la potenza risalga a livello massimo di produzione di quest'ora e di questo istante. Andiamo adesso nuovamente giù. Quindi, la tensione che si è bloccata da parte del fotovoltaico è stata questa, vedete? AC Green, questa. Questa qua, la C-LOD, non si sarebbe bloccata. In quanto, essendo studiata per non essere parallelata alla rete pubblica, non è sotto il controllo della scheda SPI, della famosa interfaccia SPI. Ok, chiudiamo il capitolo, uscita a grid, uscita a Rode e vediamo il sensore di corrente che destra molti dubbi a quanto mi risulta. Eccolo qua, un semplice dispositivo, vedete, completamente ermetico, che deve abbracciare le fasi usciti dal contatore, dal contatore che abbiamo tutti quanti nelle nostre case di scambio. Qualcuno potrebbe dire, ma perché deve abbracciare le fasi? Perché non può abbracciare i neutri? Potrebbe anche abbracciare i neutri, ma in quel caso lì potremmo avere dei problemi. E adesso vediamo il perché. Intanto proseguiamo a far vedere l'immagine di questo piccolo dispositivo che però è vitale per il funzionamento del nostro impianto. Se non c'è questo, questo oggettino, l'impianto non potrà mai funzionare bene.